Elezioni politiche 2018 I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Aire e quelli temporaneamente all'estero, possono eleggere sei senatori e dodici deputati nell'ambito della circoscrizione estero, divisa in quattro ripartizioni. Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia, America Meridionale, America Settentrionale e Centrale, Africa, Asia, Oceania e Antattide. Per la circoscrizione estero, la legge elettorale prevede un sistema proporzionale con assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti per ciascuna ripartizione. Si vota per corrispondenza. A ogni elettore sarà spedito dall'ufficio consolare di competenza un plico contenente le schede elettorali. L'elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo le istruzioni contenute nel foglio informativo, dovrà spedire senza ritardo le schede elettorali votate, in modo che arrivino al proprio ufficio consolare di riferimento entro e non oltre le ore 16, ora locale, del primo marzo. L'elettore, che alla data del 18 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al proprio ufficio consolare di riferimento per ottenere un duplicato. Per maggiori informazioni, interno.gov.it, esteri.it, rai.it e televideo.